Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Tragedia a Pesaro, trovato morto il gioiegliere Libero Caldari Ladri senza sosta, raffica di furti a Lucrezia e Calcinelli Sanità bollente, sabato si riuniscono i sindaci Intervista al presidente della provincia di Pesaro Urbino, Daniele Tagliolini Sosta pesarese del treno 5 Stelle sul referendum di Battista da Forfè Al suo posto si presenta la senatrice Taverna Carloni, senza il consenso popolare degli abitanti di Montemaggiore Niente fusioni, incolli al Metau Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Questa sera il Tg si apre con la tragedia che si è consumata questa mattina a Pesaro Dove un imprenditore di 67 anni, Libero Caldari, si è tolto la vita nel suo ufficio, nella centralissima Pesaro È stato un colpo di pistola a porre fine alla vita di Libero Caldari 69enne pesarese, titolare dell'omonima gioielleria in piazzale Matteotti Che dirigeva da 32 anni A ritrovarlo con ancora in mano la sua pistola, regolarmente detenuta, riverso nel suo ufficio all'interno della gioielleria Questa mattina, intorno alle 11, la moglie Manuela Che ha chiamato il 118 nel tentativo disperato di salvargli la vita Ma ai sanitari, giunti sul posto, non è rimasto altro che constatarne il decesso Ignote al momento le cause alla base del gesto Nei giorni scorsi, la vita e i rapporti dell'uomo sono apparsi normali a chi lo aveva incrociato E con cui ha scambiato qualche parola Anche questa mattina nulla faceva presagire ciò che da lì a poco si sarebbe verificato Come di sua abitudine, ogni giorno, pochi momenti prima della tragedia, ha preso un caffè nel solito bar Sul luogo, gli uomini del comando provinciale dei carabinieri e la polizia scientifica Per accertare le dinamiche di quanto accaduto Ora le decisioni spettano al giudice nelle prossime ore dopo aver esaminato tutte le carte del caso Ladri al lavoro anche la notte scorsa Dopo la zona di Fano è toccato ad un gruppo di case schiera a Lucrezia E prima ancora a Calcinelli Furti in schiera per villette a schiera Coordinati dal maresciallo Alessandro Pannaccio che indagano sulla serie di furti Lasciando lì tutto il resto Autocomputer, tablet, telefonini e chiavi di automobili Con tanti, solo con tanti Ad essere presi di mira dai ladri sono state diverse villette a schiera che presentano le medesime caratteristiche Una zona di accesso facilitata dalle vasiste dei garage e locali comunicanti che danno accesso direttamente agli appartamenti Siamo in Viale Vespucci a Lucrezia Quella che vedete alle mie spalle è la serie di villette a schiera che sono state oggetto di furti nella notte scorsa In quattro, in cinque abitazioni sono entrati entrando dalle basculanti del garage Forzando il cilindretto una volta all'interno della zona garage Poi ci sono le porte che danno agli appartamenti In quattro, cinque appartamenti sono entrati proprio passando da qua Questa è stata la via di accesso dei ladri In alcuni sono addirittura arrivati fin sopra le camere da letto In alcune abitazioni dove i ladri si sono trovati la via di accesso sbarrata da una semplice porta di comunicazione Non hanno nemmeno tentato di forzarla Hanno semplicemente cambiato appartamento Ma ciò che rimane, al di là delle poche centinaia di euro portate via È il senso di insicurezza che ti dà la sensazione che qualcuno, mentre tu dormi, rovista per la tua casa Senti allora, una brutta sorpresa stanotte, vi siete accorti? Sì, è stato un brutto risveglio, una brutta sorpresa Non vi siete accorti di niente? No, non c'è stato nessun rumore, quindi è stata una cosa improvvisa stamattina Ma come mai? Cioè da dentro si riesce? La basculante, non si capisce come, hanno buttato via il blocchetto e sono riusciti ad entrare E il garage è comunicante con la persona? Sì, sì, in alcuni sono riusciti ad arrivare fino, come da me, sono riusciti ad arrivare fino nelle camere Addirittura? Sì Quindi se la sono fatta tutta questa striscia? Sì, sì, su 12 case ne hanno fatte 10 Adesso siete un po' così? Sì, è la paura, il sentirsi violati dentro casa Sabato tornano a riunirsi i sindaci dell'area vasta per discutere del nuovo ospedale Alla vigilia di questo importante appuntamento al quale parteciperà anche il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli Abbiamo intervistato il presidente della provincia di Peso Urbino, Daniele Tagliolini La sanità provinciale si avvia ad un altro passaggio cruciale Sabato mattina i sindaci dell'area vasta si riuniranno nuovamente in enclave per votare l'inserimento nel tanto decantato algoritmo Del criterio del suolo pubblico per ubicare il nuovo nosocomio unico Criterio condiviso da una trentina di sindaci che, se passasse, escluderebbe di fatto il sito di Fosso Segliore Cioè quello indicato nella delibera regionale del 2012 è tuttora in vigore E riporterebbe in auge, oltre all'ormai scontato muraglia, anche quello che viene portato avanti dall'amministrazione Seri Ovvero il sito di Chiaruccia All'assemblea ha dato conferma della sua presenza il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli La scorsa volta in conferenza d'area vasta ho fatto una proposta molto semplice Visto e considerato che Pesaro e Fano proponevano due aree pubbliche Ho chiesto di poter inserire come parametro tecnico all'interno dell'algoritmo il parametro dell'area pubblica Nel momento in cui ho fatto la richiesta dell'area pubblica una parte dell'assemblea è uscita E nel finale dell'assemblea ho detto che questa era una cosa abbastanza brutta da parte degli amministratori pubblici Se la politica non è intervenuta da un punto di vista poi progettuale sulla localizzazione del sito E viene chiesto ai sindaci di individuare dei parametri tecnici Visto e considerato che siamo amministratori pubblici Penso che sia logico e conseguenziale rispetto al mandato dato dai cittadini di individuare almeno le aree pubbliche Poi se viene Chiaruccia o Muraglia con l'inserimento di questo parametro tecnico Non è un problema dei sindaci, perlomeno del territorio provinciale Ma è un parametro che può portare una definizione da parte dell'algoritmo Altro punto all'ordine del giorno di sabato nell'assise dei sindaci La proposta di Ceriscioli riguardo la garanzia e la tutela dei servizi sanitari Anche nelle zone più svantaggiate e penalizzate della riforma sanitaria regionale E c'è da aggiungere a questo servizio sempre sul tema della sanità Una lettera che ha scritto oggi il sindaco di Fano Massimo Seri Che ha inviato al presidente dell'area vasta a proposito di questa riunione E il sindaco di Fano dice, scrive Sono a chiedere integrazione dell'ordine del giorno Inserendo dopo il punto 1 un punto 1A Con il seguente oggetto Votazione sul superamento del meccanismo di scelta del sito Attraverso lo strumento dell'algoritmo E ciò al fine di decidere il sito Senza l'uso di strumenti impropri E senza una vera assunzione di responsabilità E adesso staremo a vedere che cosa risponderà il presidente Gambini Che lo ricordiamo, è anche il sindaco di Urbino Oltre 300 persone oggi, questa mattina in Piazza del Popolo a Pesaro Hanno assistito alla tappa Hanno partecipato alla tappa dei 5 Stelle Per dire no al referendum costituzionale Non è sceso di Battista dal treno alla stazione di Pesaro Questa mattina alle 11 Il leader 5 Stelle è annunciato precedentemente Ma la senatrice Paola Taverna Che sta affrontando insieme ai suoi colleghi Questo tour di 20 giorni per 47 tappe Di cui 3 solo oggi Tra cui Pesaro Per portare le ragioni del no in tutta Italia La senatrice è arrivata in Piazza del Popolo Alla testa di un folto corteo con striscioni e cartelli Che una volta arrivato in Piazza del Popolo Ha inscenato un flash mob sotto le logge del Comune In attesa che la senatrice parlasse ai presenti La taverna non si è fatta attendere Viste le tappe forzate del tour Non prima però di aver parlato alla stampa Che l'attendeva nel gazebo dei 5 Stelle Ma io veramente mi chiedo Ma il popolo italiano vuol perdere tutto quello Che ha guadagnato con 40 anni, 50 anni di lotte La gente c'è morta per queste cose La gente c'è morta per avere questi diritti Ce li stanno sfilando giorno dopo giorno E noi non vogliamo stare in silenzio Siamo qui oggi sotto un comune A timbro PD Sotto un sindaco fortemente renziano E gli vogliamo far sentire forte Il grido di un popolo che dice No al peggioramento Il cambiamento passa attraverso il no Ed è un miglioramento quello che porta il Movimento 5 Stelle Partenza poi a Civitanova Marche Ad accompagnarla in queste tappe marchegiane I deputati Riccardo Onuti e Dalila Nesci Oltre che il pesarese Cecconi In questo Stato col Zobact Sono aumentati i diritti dei lavoratori? No Con la buona scuola I nostri studenti studiano meglio I professori hanno più dignità? No I nostri risparmi sono stati salvaguardati? No E allora come si fa a credere a queste persone Che ci dicono che oggi con questa riforma Si avrà un paese migliore con maggiori diritti? A questa riforma si può soltanto votare no Perché questi sono dei mentitori seriali Hanno sempre mentito ai cittadini E oggi si fanno credere che Il nostro paese va male Il nostro governo non riesce ad applicare le leggi La nostra economia è stagnante Per colpa della Costituzione La colpa non è della Costituzione Con questa Costituzione noi siamo diventati uno dei paesi migliori al mondo Con il più alto PIL al mondo Abbiamo attraversato numerosissime crisi E siamo sempre cresciuti E siamo sempre riusciti a mantenere stabilità in questo paese Negli ultimi vent'anni tutto sta andando di scatafascio E la colpa certamente non è della Costituzione La Costituzione va semplicemente applicata e tutelata E sono queste persone che devono essere mandati a casa Il più velocemente possibile Con un governo di persone oneste Che fanno l'interesse dei cittadini e non dei loro stessi Dei loro genitori e dei loro amichetti Con questa Costituzione Il Movimento 5 Stelle sa benissimo Che questo paese può ripartire Mirko Carloni Il consigliere di Aleanza Popolare Si è detto contrario Alla fusione di Saltare Serungarina Senza Montemaggiore al Metà Questa mattina ho parlato con l'assessore Cesetti Della Regione Marche Al quale ho detto la mia opinione Sul risultato del referendum Di fusione Tra il comune di Montemaggiore al Metauro Saltara e Serungarina Che prenderebbe il nome di Colli del Metauro Io sono sinceramente contrario a questa fusione Ho atteso l'esito del referendum Per rispettare la volontà dei cittadini Per non alterare in qualche modo Un dibattito che doveva avvenire in modo democratico E senza, secondo me, invasione di campo I referendum che portano alla fusione dei comuni Devono essere referendum Che sono fortemente voluti dai cittadini In questo caso Montemaggiore al Metauro Con un forte 65% Ha detto no C'è anche un'altra motivazione Che l'affluenza al voto di Montemaggiore Rispetto agli altri due comuni È molto più alta E quindi quella espressione di voto contraria Deve essere ascoltata Ci deve essere rispetto per questa decisione E secondo me Noi come consiglieri regionali Oggi dobbiamo fermare questa fusione Non si ferma la macchina degli aiuti Nei confronti delle persone colpite dal sisma Questa mattina da Marotta È partito il camion della solidarietà Con destinazione Visso Un carico di materiale Raccolto grazie all'iniziativa lanciata Dall'amministrazione comunale di Mondolfo In collaborazione con l'Associazione Protezione Civile Fadi Bruno E la Croce Rossa di Marotta Grazie alla generosità dei cittadini Al sostegno di alcune importanti aziende locali Sono stati raccolti 45 scatolori di pasta 50 coperte, 5.000 litri di acqua E 10 bancali di prodotti per l'igiene personale Soddisfazione è stata espressa Dal vice sindaco Carlo Diotallevi Che ha seguito personalmente Tutta la campagna di sensibilizzazione Domani sera torna in diretta Su Fano TV Dopo questo telegiornale Missione Salute Domani sera si parlerà di un argomento importante Si parlerà di ematologia con il primario Ed altri ospiti dell'ospedale di Muraglia Domani parliamo dell'ematologia di Pesaro È qualcosa di grande perché comprende un team di persone Che hanno voglia di far bene Tante persone che ne hanno bisogno E quindi il lavoro e l'utilizzo di questo lavoro da parte di un grande gruppo di persone Di tutta la nostra area Ma non solo perché abbiamo persone che vengono da fuori regione e anche da fuori Italia Quindi il lavoro ci ha portato possibilmente alla eccellenza Eccellenza nel senso di avere cose nuove Da poter dare a pazienti che magari d'altra parte non riuscivano ad averle Protocolli che in alcuni casi abbiamo soltanto noi Altri due o tre centri in Italia Trapianti all'avanguardia E terapie anche di tutti i giorni Perché non ci sono soltanto le punte di eccellenza Ma ci sono tanti piccoli problemi Che possono diventare molto fastidiosi Ma che presi per tempo Possono essere risolti bene Quindi io direi una grande storia Questo è quello che portiamo domani in trasmissione Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Ieri ha compiuto cento anni Antonio Borficchia Meglio conosciuto come Tonino l'infermiere Perché per molti anni ha lavorato a Santa Croce di Fano Nel reparto di chirurgia Tonino è stato festeggiato da amici e parenti Tra cui i suoi due figli e i nipoti Auguri Happy birthday Ed è tutto Il telegiornale finisce qui Grazie per averci seguito Arrivederci a domani Grazie per averci seguito Grazie per averci seguito Grazie per averci seguito